Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore risplende nella sua Chiesa e illumina le coscienze e la voce dello Spirito Santo istruisce il popolo di Dio anche su misteri nascosti alla mente umana. Perché il nostro Dio è il Dio della luce, è il Dio della pace, è il Dio della salvezza, il Dio della vita e non lascia il suo popolo vagare nel buio. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci. Manda il tuo Spirito, Signore, e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra. Padre misericordioso, che manifeste la tua gloria in mezzo al tuo popolo con la presenza del tuo Santo Spirito di Padre, per l'opera del Figlio tuo, Gesù Cristo, dono a tutti noi di essere istruiti dalla tua parola, perché possiamo camminare nella luce e nella verità, lodando e glorificando il tuo nome. All'ode e gloria del Figlio tuo, Gesù Cristo, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nella prima lettura di oggi, fratelli, l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Tessalonicesi, risponde a un quesito che tutti i popoli si pongono. Cosa ne è di chi lascia questa terra? Di chi muore? Cosa avverrà per loro? E' una domanda che tutti si pongono. Le mamme, specialmente, che perdono dei bambini, si pongono questo quesito. Ma ogni uomo si interroga anche sul suo futuro. Cosa ne sarà di me? Cosa c'è al di là di questa vita? Esiste qualche cosa? Una volta una signora della parrocchia mi disse «Quando tu celebri i funerali e fai il corteo, non metterti davanti al canro funebre, ma mettiti in mezzo alla gente che segue il carro e sentirai i commenti. Ma ci sarà qualcosa? Non è mai tornato nessuno, ma non c'è niente, finisce tutto». Questa è la convenzione che tanti hanno. Non è la convenzione del cristiano che, illuminata dalla parola di Dio, scruda anche i segreti della morte. Infatti l'Apostolo Paolo, nella prima lettura che noi ascoltiamo oggi, risponde a questo quesito e dice «Fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza». Cioè è finito tutto, no? Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per medio di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. E qui San Paolo accenna a questo problema ma non dà una risposta esauriente in questo brano. E infatti troviamo altri arricchimenti, altri dettagli, altri brani della scrittura. Qui dice «Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, che al tempo della lettera ai Tessalonicesi era attesa nel giro di pochi anni come una cosa imminente, tanto che appunto c'erano dei cristiani di Tessalonica che non lavoravano in attesa della venuta del Signore, non si sposavano tanto si arriva il Signore, perché il Signore stesso ha un ordine, ha la voce dell'Arcangelo, al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita verremo rapiti insieme con loro nelle nubi. Cioè qual è il progetto di Dio? Di trasformare l'umanità e di condurre ogni creatura alla vita eterna. Così anche le anime dei fundi sono chiamate a ricongiungersi ai loro corpi glorificati. Noi che saremo ancora in vita non avremo alcun vantaggio su coloro che sono morti, perché alla voce dell'Angelo i morti risorgeranno. Quindi noi che viviamo e saremo ancora in vita verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto e così per sempre saremo con il Signore. La speranza che San Paolo dà in questo brano è che rivela quella che era la fede della Chiesa Primitiva e quella della sopravvivenza, quella della vita eterna e della risoluzione finale alla venuta del Signore. Questa fede era una fede presente nella Chiesa Primitiva. Se noi prendiamo il terzo capitolo della lettera della prima lettera di San Pietro al capitolo terzo versetto 18-19 troviamo quelle parole famose dell'Apostolo che dice Cristo alla sua morte morto nella carne ma reso vivo nello spirito e in spirito andò ad annunciare la salvezza anche agli spiriti di coloro che attendevano in prigione e che un tempo avevano rifiutato di credere. Parla apertamente di quest'opera universale di salvezza che Dio propone all'umanità ma parla anche di questa sopravvivenza delle anime. Così nel libro dell'Apocalisse San Giovanni parla delle anime dei martiri e delle anime dei diffunti che sono sotto l'altare e che attendono la venuta del Signore c'è quindi la sopravvivenza della nostra anima al dei lati in questa vita nel quinto capitolo della seconda lettera ai Corinti l'Apostolo aggiunge che quando noi lasciamo questo corpo a nostra abitazione sulla terra riceveremo da Dio un'altra casa non fatta da mani di uomo eterna nei cieli e finché noi abitiamo nel corpo noi siamo come in esilio lontani dal Signore camminiamo nella fede non ancora in visione e preferiamo andare in esilio dal corpo per andare a vivere presso il Signore e nella lettera ai Filippesi l'Apostolo scrive che la nostra Padre è nei cieli e di là spentiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo che ha il potere di fare nuove tutte le cose ma si parla della sopravvivenza della nostra anima che riceve già un dono da Dio e entrare nella gioia di Dio ma l'anima non viene distrutta tanto che le armi dei defunti si manifestano tante volte perché dice la Chiesa Cattolica il Catechismo che c'è comunione di vita di amore tra i viventi e coloro che ci hanno preceduto non più una comunione fisica tangibile nella carne nella vista nel tatto ma una comunione in spirito con lo scambio di beni spirituali e questo è il motivo per cui la Chiesa innanzitutto ha sempre cercato di seppellire i morti non di bruciarli proprio per avere un segnale di speranza nella sopravvivenza nella loro anima e nella risurrezione dei corpi un giorno ma anche sempre pregato per condurre le armi alla perfezione è quello che il Signore vuole che ogni persona ogni anima arrivi alla perfezione Signore Gesù che si è venuto non a castigare ma a salvare ha ricevuto dal Padre questo compito di portare ogni anima alla perfezione illumina la nostra coscienza sul nostro futuro perché viviamo su questa terra in attesa di incontrarti la nostra Padre nei Cieli e di là aspettiamo il Signore nostro Gesù Cristo che ha questa speranza e Lui purifica se stesso come Egli è puro aggiunge San Giovanni Signore Gesù aprici mente e cuore apra la nostra vita a questa bella realtà che la nostra vita è chiamata non a finire è chiamata nella pienezza della gloria eterna a Te gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen Vergine Santissima che regni oggi nella gloria in anima e corpo che ci hai preceduti nella potenza di Dio ricevendo la pienezza della gloria eterna con la risurrezione anche del Tuo corpo mortale con la trasformazione della Tua carne benedici la Tua Chiesa accompagno nel suo cammino e fa che nessuno si perda dietro la tentazione di Satana dietro l'assurdità della morte ma che tutti viviamo nella speranza di unirsi al nostro Signore e Salvatore e che la nostra speranza sia totalmente adempiuta quando il Padre ci chiamerà condividere con Lui la sua gloria eterna a Gesù gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e ricordiamo quello che dice la lettera agli ebrei fratelli che quando noi viviamo nel timore della morte ci facciamo schiavo di Satana Gesù è venuto a liberare coloro che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita e un giorno ci porterà con Lui nella gloria in anima e corpo Amen